Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come ottimizzare al meglio GTA V, ovviamente sia nella storia che online, che su 5M, ovviamente è possibile aumentare gli FPS su GTA grazie ad semplici comandi su un pannello di controllo di Nvidia e soprattutto modificando varie impostazioni anche nell'interfaccia del gioco direttamente sulle impostazioni grafiche di GTA V. Quindi in questo caso come per vedere il lag tra 46 e 47 FPS con un miglioramento di 40-50 FPS in più sui 89, 88, 91 FPS senza avere problemi di lag. Quindi ritorniamo sul nostro desktop e prendiamo così il pacchetto che abbiamo scaricato che vi ho lasciato in descrizione, quindi in questo caso se avete problemi con il link c'è il server Discord, potete entrare nel server Discord e chiedere a me e vi mando direttamente io il pacchetto. Quindi in questo caso è un pacchetto RAR che bisogna estrarre e una volta estratto uscirà così la cartella oppure entrate in un pacchetto RAR, prendi la cartella e trascinala sul desktop. Entra così nella cartella, andiamo su Nvidia Profile Inspector. Abbiamo anche la cartella di Nvidia e ovviamente clicchiamo qua sopra e scriviamo Grand Left Auto 5 o 5 Launcher, questo qua è il 5. Come puoi vedere la compatibilità di DirectX 10 e 11 che si abbinano sui giochi Assassin's Creed Rogue, il 4 Black Floog e poi c'è anche quello di GTA 5. Ci andiamo fino a giù fino a trovare l'impostazione Anti-Aliasing Transparency, questo qua, Low Ability, Anti-Aliasing questo qua, Super Sampling, alla fine metti il numero 100 AA Mode Replay. E per ultimo questo qua, e qui invece metti direttamente su Nessuno, niente. Ci andiamo fino a giù fino a trovare la Texture Filtering, qui metti lo imposi su più 2.8750, stessa cosa anche con questo. Una volta fatto, questo qua lo devi abilitare, mettere su On. Se non ti piace tutte queste impostazioni su GTA, puoi sempre andare sul logo di Nvidia qua sopra e metti Restore e te lo riporta, quindi ti fa un ripristino. Quindi è come se tu non hai mai cliccato queste impostazioni, quindi te lo riporta indietro. E fai su Applica, applichi più volte, finché non esce a posto. Una volta fatto, andiamo su GTA e modifichiamo le impostazioni nel gioco. Quindi eccoci qua, eccoci ritornati su GTA, andiamo direttamente nelle impostazioni, vai direttamente su Grafica, Memoria Video come puoi vedere io ho la 1603 MB su 6143 MB, gioco con la risoluzione Full HD, FXAA, sì, MSAA per 2, Nvidia TXAA, metti sì, e riguardo alla sincronizzazione verticale metti no, e la densità popolazione, varietà popolazione e scaling metti a metà, qualità texture metti normale, ovviamente se metti tutto alto, aumenta così il consumo della memoria VRAM, quindi qualità ombre metti normale, qui MS doppiare i flessi per 4, se non ti va bene metti per 2, quindi fino a trovare ombre sfumate, metti direttamente quelle Nvidia PCSS oppure CHS se hai Emilia come scheda grafica. Il filtro anisotropico o metti per 2 o per 4, io ovviamente mi trovo con il per 4, occlusione ambientale se la imposti, o consumerà così l'uso della memoria VRAM, quindi metto no. Ed ecco le impostazioni adatte per il gioco. Quindi da 37 o 40 fps a 80-85 in un attimo. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come migliorare così gli FPS, migliorare così le ottimizzazioni sul gioco e non laggare più su GTA nella storia online e su 5M, se hai altri problemi commenta sotto al video. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!